. 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 giovane ecco, eh, da po' un po', stiamo in mano vieni a me, vieni a me aspetta giovane, aspetta, fammi un favore visto che ti trovi, mi daresti un occhiato alla marmetta no, fa come un rumorino, vedi, che deve essere come sganciato nella cosa soprattutto quando prende una cosa sotto eppure ora l'ho sentito beh, l'hai provato? sii ehi, tu ci ride ci trovate, che cos'è che fa dalla pasta? ah e tu ci ride eh, che vedi tutta la marmetta eh, eh, e me buoni ero vediato la... ah, no, che ti staccare la madonna ah, no, 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 no no, 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 no no, 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 no Grazie a tutti